Infatti tra meno di un mese alcune di esse saranno impegnate nel torneo internazionale città di Catania, altro prestigioso appuntamento di artistica femminile. Al corpo libero ancora una russa, svetlana, corchina. La corchina l'abbiamo vista alle parallele e alla trave, abbiamo dato doverosamente ampio spazio in questa sintesi alle prove delle ginnaste russe, in particolare romeni, ma abbiamo anche inserito quasi tutte le prestazioni delle azzurre, cioè mostreremo sei delle sette azzurre che hanno difeso i nostri colori in questo triangolare di Cesena.